Essere farmacisti significa far parte di una comunità, e se la nostra luce resta accesa anche di notte, è per ricordarti che siamo sempre al tuo fianco. Farmacia Carino, con te, dal 1917. Ancora una gara difficile aspetta la nocerina femminile allenata da Zollo e Mervoglino. Domenica a Casignano arriverà la formazione delle Stars Benevento, che nel campionato di eccellenza occupa il quarto posto. Nella partita scorsa le Molosse hanno nettamente perso a Mugnano di Napoli per 12-0, record negativo per la squadra in questa stagione, contro la formazione di Villaricca, che da parte sua sta veleggiando spedita verso il suo obiettivo, che è quello di tagliare il traguardo della promozione in C. Qualche possibilità offensiva le Molosse l'avevano anche avuta sullo 0-2, con gran parata del portiere. Un gol avrebbe dimezzato in quel momento lo svantaggio, ma poi alcuni episodi, tra cui l'espulsione della centrocampista Coppola, hanno indirizzato la gara a favore della capolista, che non si è fermata e ha incrementato il risultato. Dopo la sosta tecnica al campionato di eccellenza, osservata domenica scorsa, le giocatrici della Nocerina avranno certamente resettato un po' la delusione per il pesantissimo KO precedente. E adesso come adesso, l'obiettivo che avrà la squadra è molto semplice, rendere la vita dura alle Stars Benevento. Difficilissimo per le Sannite andare a raggiungere la capolista Villaricca, che ha ben 13 punti di vantaggio, ma esse partono da una base di squadra più qualitativa rispetto al 50-60% delle formazioni che frequentano il campionato. Quindi tutto ciò che può fare la Nocerina è cercare di fare le giocate che conosce e proporsi in campo libera da condizionamenti.